Questa sconfitta così ampia è anche meritata perché il Pescara dal punto di vista della qualità e del ritmo vi ha messo da subito in difficoltà. Sì, chiedo che c'è poco da commentare, so che magari serve a poco però bisogna soltanto chiedere scusa per questa prestazione e cercare da subito di ripartire perché poi è questo. Le chiedo se questo nuovo Pescara, targato Merola e Raffià, con questo innesto di qualità magari vi ha un po' sorpreso rispetto al Pescara che conoscevate? No, assolutamente, sapevamo anche che avrebbero giocato, ripeto, purtroppo così non è un discorso di chi gioca degli avversari o del resto. Abbiamo fatto male, ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità e dobbiamo svoltare il primo possibile. Le chiedo se quell'uno contro uno di Merola da un lato e soprattutto quelle giocate a campo aperto di Raffià sono meriti loro o tiratina d'orecchia al potenza? No, ripeto, oggi abbiamo fatto male quindi a prescindere poi dagli avversari il nodo cruciale è questo.